Difficile far cadere prima del tempo un sindaco se poi, in aula, non si presenta nessuno per il voto di sfiducia. E infatti Rosa Russo Iervolino porterà a termine il suo secondo mandato. A nulla sono servite le due mozioni di sfiducia nei suoi confronti presentate a breve distanza l'una dall'altra dai partiti d'opposizione. Dopo il quasi scioglimento del Consiglio Comunale di un mese fa, poi saltato per vizi di forma rilevati dal prefetto di Napoli, e nesimo flop questa mattina. Quattro i consiglieri comunali presenti in aula, due di future libertà, Ranavolo e Demasi, uno del PDL Russo e Simeone per i riformisti del Sud. Nella sala Consiglio in tutto erano sei persone, compresi il sindaco e il presidente dell'assise comunale, Leonardo Impegno. Il PDL ci ha riprovato a commissariare il comune, fallendo per la seconda volta. Questa volta però il fallimento nasce dall'appello del candidato sindaco Gianni Lettieri, che in linea con altri due avversari, Mastella e Pasquino, aveva invitato i consiglieri d'opposizione a far cadere la mozione di sfiducia, visto che il mandato di Rosa Russo Iervolino è oramai agli sgoccioli. Un modo anche per rassenerare il clima della campagna elettorale. Insomma, per l'ennesima volta, tanto rumore per nulla.